È arrivata l'estate e questa famiglia parte per una crociera indimenticabile che nessuno di loro potrà mai... ricordare. Una pazza notte che finisce con una mattina ancora più pazza. I quattro fratelli dovranno unire le forze per scoprire cosa è successo mentre erano ipnotizzati. Preparati a viaggiare con il nuovo film di Nickelodeon, Una pazza crociera, presto in anteprima assoluta solo su Nickelodeon.